Vedo già collegata Fiorella Mannoia, che saluto, saranno straospite anche con la Ministra della Femiglia per parlare della giornata contro la violenza sulle donne. Allora intanto le domando subito che impressione le hanno fatto le polemiche che sono sorte dopo la notizia dello stupro da parte di Alberto Genovese, di una ragazza di appena 18 anni. Una bruttissima impressione, perché mi riporta ai famosi processi per stupro, ai fatti del Circeo, sono passati 45 anni e ancora stiamo parlando di questo. Purtroppo sembra che anziché andare avanti torniamo indietro. Io penso che tutte le polemiche che sono sorte, non voglio entrare nel dettaglio perché quella persona non merita neanche di essere commentata, ma io quello che voglio dire, quello che mi ha stupito e mi ha disturbato sono i tanti titoli di giornali. Perché se tu titoli la ragazza è stata ingenua, tu focalizzi l'attenzione sulla ragazza che è la vittima e non sul carnefice. Quando tu titoli ubriaca fradicia viene stuprata dal branco dietro la discoteca, tu focalizzi l'attenzione sulla ragazza ubriaca fradicia che è stata stuprata in discoteca. Quando tu titoli dramma dei padri separati, quando un uomo uccide la moglie con tutti i figli, tu stai focalizzando il problema sul dramma del padre separato. Invece tutti questi titoli di giornali sono assolutamente fuorvianti. Io lo voglio dire dritto alla telecamera, non è colpa vostra, vorrei dirlo alle donne, non è colpa vostra. Io sono libera di potermi trovare in qualsiasi situazione, o per scelta, o per casualità, o perché sono stata invitata, o per curiosità. Io voglio essere libera di poter andare anche in una camera da letto con l'intenzione di fare sesso con qualcuno e poi trovare una anche banale stupida motivazione, si toglie le scarpe e gli puzzano i piedi. E io ci voglio ripensare, io voglio essere libera di poter dire di no. Per cui non è colpa vostra. Che sia chiaro, una donna che viene maltrattata non ha colpe. E basta con questa colpevolizzazione della vittima piuttosto che il carnefice. Ecco, io vorrei sottolineare questo. Poi, come tutti i genitori, io non ho figli, ma è normale che un genitore faccia delle raccomandazioni ai propri figli, di non frequentare quei postacci, di non degradarsi in quelle terrazze con quella gente. Certo che bisogna mettere in guardia i figli, ma questo non toglie la responsabilità degli uomini che approfittano di una donna e per di più così giovane, drogandola addirittura, per farne l'uso che vuole come fosse una bambola di pezza, questo non è ammissibile.